buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 18 settembre 2024 vediamo subito chi si festeggia oggi per fare gli auguri a tutti coloro che portano il nome di giuseppe beh il nome di giuseppe è un nome che si ripete diverse volte nel corso dell'anno liturgico e noi facciamo comunque oggi ancora di nuovo gli auguri a tutti coloro che si chiamano giuseppe perché ricorre la solennità di san giuseppe da copertino un santo molto vicino a noi seppure è stato originario di un piccolo paese della puglia ovvero copertino copertino un piccolo paese dunque di questa regione siamo nel diciassettesimo secolo ebbe giuseppe è il santo delle estasi e dei rapimenti franciscano minore conventuale durante le sue preghiere più volte si elevò come se come se si innalzasse al cielo era un mistico era un mistico era un religioso che si compenetrava tal punto nella preghiera che tutto quello che era nei dintorni non contava più niente lui stesso si elevava verso il cielo così come abbiamo detto eroica fu la sua carità verso i poveri e verso gli infermi ebbe il dono della profezia della penetrazione dei cuori e delle guarigioni morì a osimo a 61 anni di età papa benedetto quattordicesimo lo escrisse nell'albo dei beati e poi clemente tredicesimo in quello dei santi quindi san giuseppe da copertino si è un santo pugliese ma è un santo anche marchigiano perché lavorò molto nel nostro territorio nell'ambito della propagazione del vangelo e ci ho detto passiamo alle previsioni del tempo che insomma non sono buone ve lo dico subito ecco la grafica ebbene avremo un tempo perturbato per tutta la giornata con piogge rovesci anche temporaleschi e forte intensità con possibile addirittura nubi fragili volevamo la pioggia e la pioggia è arrivata e sarà una pioggia già ieri lo è stata piuttosto copiosa i venti sulle coste espireranno da est e nord est nell'interno da nord est le temperature 20 la massima 16 la minima il mare è mosso il sole sorto alle 6 e 49 tramonterà alle 19 e 14 questo per quanto riguarda la prolusione che ci consente quindi di vedere le notizie pubblicate dai giornali a partire dal resto del carlino che vediamo in un articolo di apertura a quello che ricordiamo anzi quello che è accaduto qualche tempo fa nel nuovo waterfront di torrette gradonata di torrette un'anziana scivolò e morì la procura indaga per omicidio colposo al momento il fascicolo è contro ignoti non c'è nessun indagato particolare sono stati ascoltati i figli della vittima li vediamo qui in questa fotografia l'avvocato che li difende in quel punto cadute altre persone almeno 15 insomma i lavori che sono stati fatti a torrette nel piazzale principale di questa frazione di fano che ha una gradonata che discende verso il mare una gradonata improvvisa che forse non viene vista e non viene valutata correntemente da coloro che passeggiano sulla passeggiata di via stelle di mare dunque è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti la procura di pesaro indaga dunque su questo incidente che ha procurato la morte a donata maria genovese di 74 anni di fossombrone la signora è deceduta nell'ospedale di pesaro dove era stata trasportata d'urgenza dopo una rovinosa caduta avvenuta due giorni prima della gradonata trappola di torrette due giorni prima aveva abbattuto violentemente la testa e la famiglia per tramite dell'avvocato michele d'accardi aveva presentato querela per omicidio colposo ora sono stati ascoltati i figli della vittima dagli agenti del commissariato di fano su incarico della procura che sta in conduce sta conducendo delle indagini per accertare se vi sono le rispettive responsabilità di quanto è accaduto vedremo come andrà a finire questa vicenda certo è che la gradonata e la sua pericolosità era stata così rilevata più volte da coloro che abitano a torrette dai residenti ma anche dagli operatori turistici un progetto che ha fatto discutere un'altra notizia che viene pubblicata sulla prima pagina del resto del carlino riguarda la mensa di san paterniano da cui sorge un appello è il presidente marcantonini il presidente che gestisce questa opera mauro marcantonini presidente appunto dell'opera padre pio che rivolge un appello all'amministrazione comunale affinché sostenga quest'opera quest'opera meritoria da gennaio ad oggi escluso il mese di agosto in cui è stata chiusa ma ha continuato ad operare invece la mensa gestita sempre dalla caritas nel centro diocesano di via roma ebbene la mensa ha distribuito 37.846 pasti da asporto che sommati alle colazioni pranzo e cene consumati dagli ospiti fissi salgono a 51.474 un servizio che si aggiunge a quell'offerto ai 22 ospiti al giorno in media del dormitorio ebbene questa è un'istituzione cittadina di grande rilevanza sociale perché offre un servizio non soltanto a coloro che vengono a Fano sono immigrati e magari passano temporaneamente e poi se ne vanno ma no ci sono anche molti fanesi che si trovano in uno stato di indigenza e hanno bisogno del sostegno della mensa per arrivare alla fine del mese quindi è una istituzione veramente importante che deve essere sostenuta sarebbe auspicabile che la nuova amministrazione comunale contribuisse in maniera concreta e adeguata rispetto alle tante parole e le scarse attenzioni di chi li ha preceduti ha detto papale papale marcantonini sollevando l'attenzione del sindaco e della giunta e parliamo ancora di dengue parliamo ancora di dengue perché la dengue è ancora presente nel nostro territorio nonostante la pioggia e il calo della temperatura ebbene sembra che un altro caso si sia giunto ai venti già segnalati nei giorni scorsi e mentre si attende la conferma delle analisi per un cinquantenne del vallato che ha evidenziato dei sintomi che fanno pensare ancora alla dengue sono sintomi insomma che sono significativi perché ha la febbre alta ha anche problema appunto che riguarda il suo corpo quindi sono in una situazione piuttosto seria insomma e mentre si attende la conferma delle analisi per questa persona tante sono le allerte dei medici di base che segnalano tutti i casi di influenza che dovrebbero essere accertati dovrebbero essere fatte delle analisi per accertare se è una semplice influenza una semplice malattia di stagione perché poi il freddo è arrivato all'improvviso oppure si tratta della dengue e quindi il caso deve essere trattato con particolare attenzione parliamo anche di un incidente che si è verificato l'altro giorno sulla autostrada A14 che ha procurato purtroppo la morte di una turista tedesca ebbene il marito che era al volante che è stato ricoverato all'ospedale di Torrette di Ancona è fuori pericolo si tratta sempre di una situazione piuttosto seria comunque per la prognosi riservata è stata tolta quindi e quindi la cosa si sta avviando almeno per questa persona in una situazione migliore comunque la procura di Pesaro ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del 49enne senegalese che era la guida del camion che ha con una manovra era in una piazzola di sosta è rientrato nella corsia di marcia in quel momento sopraggiungeva la auto dei turisti tedeschi e c'è stato l'impatto ed ora dovrà rispondere per omicidio stradale un morto e due feriti il tragico bilancio poi si è ferito anche lui perché insomma è stato trasportato all'ospedale Santa Croce di Fano tanta pioggia ma zero allagamento il sistema fognario areto il presidente dell'ASET Giacomo Mattioli ha detto che sono gli interventi preventivi su caditoi e scolmatori che però non sono stati attivati ebbene Giacomo Mattioli ha detto ci siamo preparati per fortuna piove molto ma a regime regolare e quindi tutto questo sembra che il sistema fognario riesca a smaltire questa volta non ci sono stati quegli allagamenti insomma che si verificano frequentemente nei pressi della stazione oppure in altri punti come il sottopasso dell'Ellido quello di Viale Carducci che limita un po' la frequentazione di questa zona della città un'altra notizia importante che viene pubblicata dai giornali è l'incontro che c'è stato tra il sindaco e i responsabili di Enel Green Power la società che gestisce la situazione del canale Albani ebbene in merito a questo canale nel futuro si prospettano delle situazioni piuttosto drastiche voglio dire innovative soprattutto ebbene quello che prospetta il sindaco Luca Serfilippi a Enel Green Power è il tombamento di una parte del canale in modo da farci costruire un percorso ecologico un percorso verde che potrebbe ospitare una pista ciclabile, una bella passeggiata e eliminare insomma quella bruttura che per tutta l'estate quest'anno ma anche degli anni scorsi abbiamo visto una bruttura costituita dalla siccità, dal fango, dai rifiuti che sono stati riversati nelle canali insomma uno spettacolo indecente che nella città a vocazione turistica certo ci sta molto male un corridoio verde, un corridoio verde come intitola oggi il resto del Carlino al posto del canale Albani la proposta di Serfilippi discussa con Enel Green Power una parte potrebbe essere convertita in percorso ciclabile e pedonale comunque è una proposta che certo farà discutere perché poi chi vuole che ritorni l'acqua chi vuole invece che l'acqua ormai va, viene e quindi non è più presente come una volta è meglio dunque metterla in un canale sotterraneo e farci sopra una bella pista ciclabile che poi attraverserebbe tutta la città comunque il sindaco ha proposto anche la realizzazione di un laghetto per farci restare gli anatidi quindi insomma le occhette ci saranno sempre in questa zona della città e parliamo anche della caserma Paolini perché c'è stata una interrogazione del Partito Democratico che ha sollecitato l'amministrazione comunale a approvare l'inserimento di questo bene che è stato passato dalla proprietà del demanio alla proprietà del comune di Fano nei beni indisponibili è un atto che deve essere approvato dall'amministrazione comunale ebbene risponde alla Cucchiarini l'assessore Santorelli che dice la Cucchiarini non si preoccupi ci stiamo occupando in maniera molto attenta di questa questione dobbiamo ancora perfezionare gli atti la stesso demanio deve ancora così definire formalmente questo passaggio di proprietà noi ci stiamo occupando poi tutto sarà approvato dal Consiglio Comunale insomma la situazione è in Fieri abbiamo aspettato 10-20 anni perché la caserma passasse al comune dovremmo aspettare ancora qualche mese perché tutto venga formalizzato ma intanto sono pronti 170.000 euro per fare i lavori di manutenzione lavori ovviamente necessari perché dopo l'abbandono della caserma anche tutta la palazzina a comando che fronteggia Vialeo Gramsci ha bisogno di tanti lavori a partire dalla Garritta che fronteggia appunto l'entrata che è in condizioni veramente inguardabili serve un idraulico? ce ne sono nove in arrivo è una scuola artigianale fatta da un privato un privato che conosce bene le necessità delle famiglie della società affanese che si avrà il computer avrà l'alta tecnologia ma però servono ancora le mani per aggiustare i rubinetti le tubazioni per rendere fruibile una vita familiare che sia insomma all'altezza della situazione e allora che cosa ha fatto? ha fatto una scuola lui da privato non rilascia nessun certificato che sia valido però insomma insegna il suo mestiere ai ragazzi e i ragazzi imparano a fare gli idraulici e sappiamo quando un idraulico arriva dentro casa insomma quanto ci costa perché insomma questo è un lavoro che vale è un lavoro che dà un futuro a tanti ragazzi in questo caso sono nove tutti i ventenni sono iscritti al primo corso per idraulico di William Mattioli la scuola bottega che questo 69enne fanese ha voluto creare in città per insegnare ai giovani l'intramontabile mestiere dello stagnino ebbè è una bella cosa anche poi gli idraulici non è che si trovano all'angolo della strada bisogna cercarli e poi non sempre sono disponibili perché sono operati di lavoro e quindi quando c'è una rottura bisogna anche aspettare passiamo ora negli altri comuni vediamo a Monteporzio è stata trovata una discarica abusiva con veramente tanti rifiuti frigorifero un congelatore addirittura poi tanti altri rifiuti anche di grandi dimensioni abbandonati qui su questa zona è una zona un'area verde che si trova a Castelvecchio di Monteporzio trasformata da tempo in una discarica abusiva a cielo aperto dove periodicamente vengono buttati oggetti e anche elettrodomestici a pensare che l'ASET mette a disposizione il servizio di ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio basta telefonare ve lo vengono a prendere a casa perché dovete trasportarlo caricarlo su una cariola una macchina un camion e buttarlo in una zona abusiva ve lo vengono a prendere a casa cosa volete di più ebbene questa è un'educazione che deve essere ancora fatta ai cittadini passiamo a Marotta e vediamo invece una bella opera artistica che è stata fatta da tanti mosaicisti 100 metri di mosaico spettacolo sulle lungomare gli artisti hanno accelerato per la pioggia e quindi hanno fatto hanno lavorato allacremente l'80% del lavoro è già stato portato a termine in largo anticipo viste le condizioni meteo avverse ebbene sono veramente belle queste figure un po' astratte un po' realistiche che sono state fatte sul lungomare di Marotta un lungomare dove l'arte dove anche l'arredo acquista un rilievo particolare a Urbino a Urbino si identificano alcuni ristoranti dove è possibile sposarsi ebbene non ci si sposa solo in comune ormai la cosa è nota da tempo a Urbino ha identificato infatti tre nuovi ristoranti per celebrare i matrimoni che si aggiungono a quelli già previsti in altri siti sono ristoranti e strutture immerse nel verde particolarmente Charmant così viene utilizzato questo aggettivo per così descrivere l'atmosfera che viene offerta dai proprietari dei ristoranti agli sposi qui vediamo la foto di un rito civile recuperiamo e salviamo il molino del duca lo chiede Giorgio Londei la struttura che risale al XVI secolo è semisommersa dalla vegetazione e non è certo facile raggiungerla si trova in zona Palazzo del Piano alle propaggini del comune di Urbino a dispetto della sgargiante cartello che indica la sua posizione ebbene una volta che ci si dirige in quella direzione poi ci si perde nella vegetazione delle cesane è stata ritrovata appunto da Giorgio Londei che con Umberto Piersanti il poeta hanno provato a raggiungerla e hanno visto che si tratta veramente di una costruzione interessante un mulino una volta lì c'erano tanti mulini che potrebbe essere ripristinata restaurata ristrutturata per essere così raggiunta da tanti coloro che fanno una bella passeggiata nella vegetazione delle cesane ed ora passiamo al Corriere Adriatico e vediamo l'esordio l'esordio della nuova scuola media che è stata realizzata a Fano si tratta della scuola media di Sant'Orso un istituto comprensivo nuovo quello di Sant'Orso che ingloba tre scuole primarie e quattro scuole materne e quattro scuole dell'infanzia 22 allunni a una sola sezione quindi a una sola classe per il momento 22 nuovi allunni entrano nella nuova scuola media e la quarta di Fano Fano così recupera la quarta scuola media che aveva perso con l'accessione della Fà di Bruno al comune di Mondolfo la Fà di Bruno e la scuola di Marotta Fano così aveva soltanto tre scuole medie la Padalino la Gandiglio e la Nuti ora invece può avere anche la scuola media l'istituto comprensivo di Sant'Orso ha il nome del quartiere non ha un nome di un personaggio così come hanno al momento almeno le altre scuole comunque un punto di riferimento importante per tutte le famiglie che risiedono nella periferia del comune di Fano verso la valle del Metauro ovvero Carrara Cucurano Falcineto Rosciano Bellocchi prima dovevano entrare nel centro della città se non soffermarsi alla Nuti ora invece hanno un punto diretto più raggiungibile che è il quartiere di Sant'Ossso ebbene qui abbiamo la dirigente la signora Pettinari che ci descrive un po' come è stata fatta l'organizzazione e quindi c'è stata una grande festa per l'inizio di questo nuovo anno scolastico in questa nuova scuola media voglio anche segnalarvi un'iniziativa importante dal punto di vista sanitario oggi ci saranno visite gratuite per prevenire i tumori testa-collo al Santa Croce di Fano prenotazioni telefoniche stamattina in occasione della giornata europea possono essere fatte queste prenotazioni dalle 12 alle 13.30 telefonando al numero 0721 882 che è il prefisso appunto della sanità affanese 434 882 434 882 434 chi ha qualche segnale premonitore oppure vuole mettersi al sicuro può così usufruire di questa visita gratuita perché i tumori testa-collo non sono affatto tumori secondari hanno un'alta incidenza anche nel nostro territorio quindi è un'iniziativa benemerita questa del nostro sistema sanitario vediamo anche come il Corriere Adriatico si occupa del futuro del canale Albani un complesso corridoio ecologico che viene ipotizzato dal sindaco Ser Filippi ma disinfestiamo anche il canale Albani l'Enel Green Powell si è ripromessa di intervenire quando il Comune bonificherà le sponde del canale l'Enel agirà all'interno del corso d'acqua vediamo anche come il Corriere ci notifica che le condizioni del conducente tedesco che è stato coinvolto nell'incidente dell'altro giorno nell'A14 stiano migliorando e poi ancora un articolo che riguarda la destinazione degli scavi di piazza Andrea Costa l'assessore Ilari sui lavori di piazza Andrea Costa dice sondaggi nel terzo settore dopo le feste il terzo settore sarà scavato dopo Natale per non creare problemi appunto in autunno ma anche durante le feste e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto